Non c'è pace per i conti regionali. Non passa giorno che non spunti una dolorosa sorpresa. Ad ogni scatolone che si apre, come nella migliore tradizione umoristica, spunta un guantone da pugile caricato a molla che fa vedere le stelle. Peccato però che non si tratti di riso. L'ultima novità in ordine temporale è infatti un decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio di Bonifica del Basso Molise per 15 milioni di euro che la regione è tenuta a pagare. A fronte della pretesa, la mancata erogazione di somme dovute dalla regione per lavori effettuati nel tempo e rispetto ai quali l'ente era tenuto a contribuire in misura del 50%. A dare la notizia è l'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti. Vengono fuori quasi giornalmente delle sorprese. A volte un po' più grandi dal punto di vista economico, a volte meno preoccupanti. L'ultima in ordine di tempo è quella dei Consorzi di Bonifica perché c'è un decreto ingiuntivo che il commissario per i due consorsi di Bonifica del Basso Molise ha emesso per il tramite del Tribunale di Campobasso per 15 milioni di euro e per cui bisogna far fronte anche a queste situazioni che emergono debitorio o presunte debitorie e quindi stiamo lavorando anche con l'avvocatura regionale per fare una chiarezza definitiva su tutto il contenzioso che c'è. Parliamo di numeri spaventosi, non le dico in questo momento quali sono i numeri perché voglio una relazione completa in tal proposito, però è una cosa a cui bisogna necessariamente lavorare anche in maniera rapida. Un altro fardello quindi che si aggiunge al quadro complesso dei conti pubblici. Cefaratti ha lavorato tutta l'estate per mettere ordine ai documenti contabili e nei prossimi giorni è in arrivo presso la Commissione competente dopo quello 2021 anche il bilancio consuntivo 2022. Più lunghi i tempi per il previsionale 2023 la cui approvazione è prevista nel mese di settembre e dal quale dipendono una serie di questioni dal pagamento dei fornitori alla composizione delle segreterie. Stiamo continuando a lavorare allacremente a questi due provvedimenti, sia il consuntivo 2022 sia il previsionale 2023. Abbiamo delle inconvenze, abbiamo delle scadenze, abbiamo una necessità nel più breve tempo possibile di addivenire al consuntivo 2022 e al previsionale 2023. Se non facciamo questi ulteriori due passi abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda l'intera organizzazione strutturale della Regione Molise. Un altro tema cruciale è quello del personale. In Regione mancano molte unità operative e nei prossimi mesi è prevista la dotazione di nuovo personale. Abbiamo tanto personale in manca per cui bisogna procedere nel miglior modo possibile e quindi nel più breve tempo possibile all'assunzione personale. Assolutamente necessario per superare questo deficit che è evidentissimo.